Dove non c'è più commercio? La resilienza di chi è rimasto nelle zone colpite dal terremoto del 2016 e al caffamento alla propria identità col pezzo d'Italia e Nunde per morire gridano la loro tenacia sfida alla pioggia protestano in piazza a Roma per scorsare La ricostruzione che nebbò, chi lo sa, siamo qui per questo Il non vi lasceremo soli, siamo più soli di prima Pogliamo i pazzi? Basta! A quasi tre anni dal sisma denunciano tutto e fermo loro arrivano da Castelluccio dove la costruzione delle SAE è iniziata da poco Non ci rappresentate! Castelluccio, zero abitanti! Le emergenze le stanno costruendo dopo 30 mesi L'emergenza da noi inizia dopo 30 mesi Sono in centinaia in piazza Montecitorio un mosaico di ombrelli colorati a fare da cornice a storie di difficoltà quotidiane Abbiamo tutto a terra, la nostra attività è ferma dal 30 ottobre 2016 Abbiamo un senso di abbandono E sembra che non ci sia via d'uscita Il governo Salvini Di Maio non fa niente neanche per i tre votati Fa solo un nuovo P2 e l'Icio Gelli